Ai microfoni di Radio Sapienza il dottor Manuel Greco che ci racconterà il progetto di SETEL qui appunto a Fiera di Roma alla terza giornata del Blue Economy nel quale appunto parliamo di sostenibilità, parliamo di innovazione e appunto chiediamo di cosa tratta il vostro progetto e come mai siete venuti qui a presentarlo. Salve a tutti, sono Manuel Greco e quello che vediamo alle nostre spalle è un veicolo anfibio sviluppato appunto dalla SETEL il cui compito appunto è quello di monitorare quindi abbiamo due tipologie di monitoraggio, il monitoraggio appunto agricolo come possiamo vedere anche appunto su Roll Up e qui in questo caso il veicolo deve capire in qualche modo quali sono i parametri da controllare ovvero la quantità di acqua che è una pianta necessita oppure la presenza di agenti patogeni un po' come parassiti o microorganismi però questo veicolo ha un'altra capacità appunto quella di galleggiare come possiamo vedere anche alle nostre spalle questo veicolo quindi in questo contesto qua può monitorare ad esempio la qualità delle acque quindi fare anche in questo caso il monitoraggio oppure monitorare altri parametri come la temperatura dell'acqua la presenza di sostanze inquinanti, pH oppure la torbidità dell'acqua per muoversi questo veicolo sfrutta un principio fisico semplice appunto quello del pendolo che in questo caso è rappresentato da alcuni elementi che noi chiamiamo appunto pulle elementi negativi in questo veicolo come ad esempio i motori, la trasmissione o le batterie in realtà si trasformano in elementi positivi perché contribuiscono appunto alla spinta un altro elemento fondamentale di questo veicolo è il basso baricentro quindi questo consente di essere molto stabile soprattutto in ambienti come neve, fango oppure acque basse può essere usato in diversi contesti anche in campo archeologico ad esempio per rilevare la presenza di oggetti sepolti, nascosti però in questo caso bisogna equipaggiarlo con determinate tecniche determinati quindi strumenti come ad esempio magnetometri oppure georadar ecco quindi ovviamente lo scopo del dispositivo si, lo scopo è il monitoraggio di determinati parametri ma può essere usato anche come piattaforma dove poter quindi collocare, situare tutta una serie di oggetti, di sensori quindi dispositivi elettronici per il monitoraggio perfetto Manuele, noi la ringraziamo davvero